vediamo che la camera è l'ultima di secco ormai no c'è un'altra anche qua è figura c'era lui è riuscito a star dentro vai è andato è cotto è cotto vai no non ce la fai più non ce la fai più basta casa a casa a casa ascolta l'ultima ci sta così chiudiamo belli basta posto grazie